Perché mi piace a me questa usante nostra? Perché è una usante che non ci ferma mai? Che mentre l'altra stanno indichise, camminano giorno e notte e non riposo. Ti metti da sopra, ti guardi, ti leggeri i tuoi pensieri e sai che vuoi. Sai che vuoi bene ai figli e alla famiglia e per il bene lo troveranno meglio. I sacrifici rischi di domani, li metti a conto e ci si metti in mano. Quando la mattina è più incazzata in gaccia, quando è più caldo il sole forte brucia, la mano di San Bazzaro di sfiora, che è l'amore di un santo protettore. E io, io voglio bene veramente, mi porto dentro il tuo cuore e so' contento. Io faccio le mani e sempre lo tengo a cari. Perché questo è bello agli bambiare. Grazie. 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 Grazie.